La raccolta differenziata arriva nel cuore di Napoli, il centro storico, con un progetto ambizioso per il quale sono state adottate soluzioni innovative dedicate alle strette strade della zona e dalla valorizzazione dei materiali raccolti. Dal 5 ottobre partirà la consegna del kit per le famiglie e dal 2 novembre si elimineranno i cassonetti, liberando strade e piazze e dando il via al servizio del porta a porta, che coinvolgerà 30.000 utenti con 3.800 punti di raccolta e 16 postazioni di campane. Finalmente scomparono i cassonetti. L'altro elemento veramente di grande felicità è che purtroppo i cassonetti nel tempo erano stati messi nelle piazze storiche della nostra città davanti a monumenti. Diamo la possibilità, lì dove non c'è lo spazio per mettere i carrellati, di andare anche con sacchi e con delle fascette in cui si spiega qual è la frazione che si sta ponendo fuori. Quello che abbiamo aggiunto è nel periodo proprio iniziale non solo la presenza di gazebi informativi per tutto il periodo della partenza, ma anche delle isole ecologiche itineranti sia per i piccoli elettrodomestici che per gli ingombranti, in modo che veramente speriamo di non vedere più quegli accumuli in alcuni angoli della zona che ci fanno veramente tanto soffrire perché significa rincorre e significa anche spendere soldi dell'azienda e dei cittadini. Verranno raccolti in maniera differenziata carta, cartone, plastica, metalli, alluminio, umido, vetro e non riciclabile, in armonia anche con il più ampio progetto UNESCO. I materiali verranno ritirati in base ad un calendario preciso con isole ecologiche itineranti per i materiali che non vanno nei contenitori consegnati a famiglie ed attività produttive. E dall'8 ottobre al 13 novembre a piazza San Domenico Maggiore e piazza Gerolamini due punti informativi avranno il compito di spiegare tutti i dettagli agli interessati. La prima operazione era liberare la città dal cumulo dei rifiuti, quell'emergenza terribile, la seconda era mettere i conti a posto, noi chiudiamo il bilancio di Asia in attivo per la prima volta nella storia dell'azienda, la terza era liberarsi dai fitti passivi, io ricordo a tutti che la Asia aveva la sede in fitto in un altro comune addirittura, noi adesso non solo l'abbiamo riportata a Napoli ma ci siamo liberati dell'ennesimo fitto, non c'era il contratto di servizio, abbiamo il contratto di servizio. Noi quando siamo arrivati in Asia c'erano tre spazzatrici, oggi siamo finalmente a 15 e c'è bisogno di fare gare, i presidi di legalità, di sicurezza, quindi i tempi tecnici necessari e questo va a coprire un segmento a fronte di continui pensionamenti di lavoratori che anziani vanno in pensione quasi 100 unità all'anno, le strade aumentano, i percorsi turistici aumentano ma anche le periferie per noi sono importanti e su quelle stiamo investendo con le grandi spazzatrici, quindi noi che cosa stiamo pensando? Liberiamo le piccole strade dall'attività delle grandi spazzatrici che sono ingombrane, quelle nelle periferie ci danno una mano, nel centro storico con questi mezzi multifonzionali, quindi noi abbiamo liberato mezzi per le periferie che per noi sono al centro, tanto è vero che le nostre isole ecologiche, la prima zona dove siamo partiti con la differenziata non a caso è Scampia. Chiediamo ovviamente una straordinaria collaborazione di tutti gli abitanti, di tutti i cittadini, di tutti i turisti perché poi vedere Napoli nel centro storico senza cassonetti, col porta a porta sarà una grande operazione non solo di migliore igiene urbana ma anche di riqualificazione e di decoro molto significativo. I napoletani piace la sfida, è un popolo che non vuole mollare, ha coraggio, io ho l'orgoglio dell'ultima sfida vinta che tutta merita dei cittadini dei quartieri spagnoli dove tra l'altro sono anche diverse etnie come sappiamo, ci sono tanti immigrati, tanti napoletani, tanta gente anche povera che hanno una grande dignità nel preservare il loro quartiere e fare molto bene il porta a porto, quindi io amo Napoli e sono convinto che i napoletani quando si fanno e si lanciano sfide così importanti risponderanno.